... Nei giorni scorsi il Senato ha ratificato la cosiddetta Convenzione di Lanzarote che impegna i paesi europei a introdurre leggi più efficaci per contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori. Per la prima volta nel nostro codice penale è stata introdotta la parola pedofilia. Ne parliamo oggi con le nostre ospiti, l'onorevole Alessandra Mussolini, benvenuta. Salve, grazie. E la senatrice Donatella Poretti, benvenuta. Grazie a voi. E onorevole Mussolini, prima di chiederle perché è importante e cosa cambia con questa nuova convenzione, vediamo la sua scheda. Alessandra Mussolini è nata a Roma ed è laureata in medicina e chirurgia. Entra per la prima volta alla Camera nel 1992 con il Movimento Sociale Italiano. Confermata anche per la legislatura successiva, dopo lo scioglimento del partito, aderisce ad Alleanza Nazionale, con cui viene eletta nuovamente nel 1996. Nel 2004 diventa eurodeputata, eletta con lo schieramento di Alternativa Sociale, guidato da lei stessa. Nel 2008 viene rieletta alla Camera nelle file del PDL e dallo stesso anno diventa presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, carica che tuttora ricopre. Attualmente è anche membro della Commissione Affari Sociali. Recentemente ha detto, spesso i bambini non vengono considerati, semplicemente perché non votano. Onorevole Mussolini, tante esperienze. E quante, non fate. Lo ribadisco perché non votano. Tutte le leggi sono adultocentriche, si parla sempre degli adulti, invece con questa convenzione dei Lanzarote, che abbiamo faticato ad approvare. Tre anni di lavoro. Tre anni in cinque letture, quindi Camera, Senato, Camera, Senato. Alla fine inasprisce le norme contro la violenza sessuale sui minori, introduce il reato di adescamento in rete. Il grooming è molto importante perché adesso la Polizia delle Comunicazioni lo voleva molto perché quando un ragazzo viene adescato in rete, tipo dammi il tuo numero di cellulare, ti ricarico il cellulare, fammi vedere come sta in costume, insomma c'è proprio un vero e proprio adescamento. Infatti questa cosa è stata sottolineata anche dalle associazioni nella difesa dei minori. Finalmente noi abbiamo una norma, devo dire, a livello anche europeo molto avanzata. È una cosa molto importante, sono molto contenta, grazie a tutti perché è passata all'unanimità. All'unanimità, sì. Senatrice Poretti, sicuramente un passo avanti, probabilmente si può fare ancora di più, però prima di sentire la sua opinione vediamo la sua scheda. Donatella Poretti è nata ad Arezzo ed è giornalista. Fa politica dal 95 con i radicali, eletta nel 2006 alla Camera dei Deputati come radicale con la rosa nel pugno, nel 2008 entra in Senato con il Partito Democratico grazie a un accordo per le elezioni. Attualmente è segretario della Commissione Igiene e Sanità, componente della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. È inoltre membro del Comitato parlamentare dei procedimenti d'accusa. Di recente ha detto, solo i bambini possono essere innocenti, violarli e condannare a morte la loro infanzia. Senatrice Poretti, cosa si può fare di meglio per evitare questa condanna a morte della loro infanzia? Sì, davvero, perché io credo che l'innocenza possa appartenere soltanto ad un bambino. Noi adulti possiamo trovarci mille giustificazioni a quello che facciamo e invece ai bambini appartiene qualcosa d'altro e colpire i bambini è uccidere la loro infanzia e poi trasformare un bambino in un adulto e in un adulto evidentemente poi che si porterà dietro dei problemi. Un fardello. E che poi si riverseranno sulla società, probabilmente si riverseranno su altri bambini o sulle persone che incontrerà. Quindi prevenire qualsiasi reato sui bambini credo che sia davvero una priorità per la politica. Però è vero quello che diceva Alessandro Mussolini. Le leggi sui bambini sembra che siano, per quanto è una priorità, sono stati fatti anche dei sondaggi, delle consultazioni da parte del Garante per l'infanzia per vedere se i diritti dei bambini stanno nelle priorità degli italiani. Ci stanno degli italiani. Degli italiani in generale sì. Dei politici italiani sicuramente no. Non votano, non si portano voti. Non so cosa, però fatto sta che queste leggi che si occupano dei bambini non arrivano in ritardo. Le stanze della popolazione non corrispondono a quelle del governo. Su molti altri temi. Però quello dei bambini io credo che davvero è inspiegabile. È inspiegabile perché poi sono i futuri uomini, i future donne del domani che faranno un paese, che faranno i criminali o faranno le persone per bene perché poi curarli fin dall'inizio è importante. Scusami se ti interrompo. Noi possiamo fare una legge, la legge di Lanzarota è quello che vuoi. Se poi tu mi scarceri, lo stupratore di un bambino dopo tre anni o per buona condotta o per messi premio, questo è un segnale devastante. Noi possiamo fare le leggi, ma se poi le leggi non vengono applicate, che si dà la semi-infermità mentale a un delinquente che ha massacrato un bambino, ecco, io su questo sono contrarissima. Secondo me devono andare dentro, si butta la chiave, se c'è la chiave non la trovo più. Sicuramente con questa convenzione le pene sono più severe e speriamo che vengano applicate. Non basta inaspirare le pene e questo lo sai meglio di più. Lo Stato di diritto prevede un'altra cosa, prevede che la pena non sia semplicemente una punizione, una condanna a morte o che la pena ha una sua funzione rieducativa e la deve avere, perché poi se uscirà quello ma ce ne sarà un altro. se non ha la funzione rieducativa e le carceri sono piene e sono piene di disgraziati. Buono è stato fatto da numeri tanti di prescrizione, quello sì di alcuni reati, perché poi in realtà non ci si va dentro il carcere. Poi a rubare l'innocenza dei ragazzi, dei bambini, ci sono i mostri virtuali che purtroppo di virtuale hanno solo il medium utilizzato. Vorrei mostrarvi alcuni dati riguardo a questo fenomeno, al fenomeno della pedofilia. I siti pedofili porno nel mondo sono 70 mila, 12 milioni di immagini pedopornografiche, 2 milioni e mezzo di bambini coinvolti di età compresa da 0 a 12 anni. In particolare la fascia più colpita è quella tra i 6 e i 9 anni. Insomma, sono numeri che danno i brividi. Guardi, purtroppo io le devo dire che la situazione è anche più grave di questa. soprattutto su internet ci sono dei video che mandano del materiale sui bambini, bambini che sono costretti in gabbie, neonati, non è che vada da 6 anni, vada anche da 0. Quindi le persone, che si comportano in modo così aberrante, quando lei diceva prima alla mia collega che è rieducativo, ma di cosa stiamo passando? Stiamo parlando della Costituzione italiana che dice che la pena è rieducativa. Chi vuoi rieducare? Di fronte, noi siamo andati alla Polizia in missione, alla Polizia delle Comunicazioni, che è proprio il nucleo centrale che si occupa di debellare questi reati, quantomeno di fronteggiarli. abbiamo visto dei filmati con altri colleghi scioccanti, quindi di fronte a questo è molto... è leggero parlare di carcere. Via, l'ho detta. Che ne pensi? È legittimo fare una campagna per la reintroduzione della pena di morti. Sto parlando che la pena in Italia ha anche la funzione rieducativa, anche perché poi se lo rimetti fuori, perché prima o poi fuori esce e non hai fatto in maniera tale, non hai creato delle situazioni tali per evitare che ricompia nuovamente il reato, sei punti a capo, quindi va da sé. Ora il problema è che i reati su internet, l'adescamento su internet, siamo tutti d'accordo, e quindi ottimo il fatto che si sia ratificata, introdotto anche il grooming, una nuova ipotesi di reato che aiuta ovviamente nelle investigazioni. Ricordiamoci però anche in Italia, rimaniamo ai padri, ai genitori italiani e alle violenze che si consumano in famiglia. Ecco, a proposito... E anche su quello, la convenzione di Lanzarote e l'introduzione, l'inaspirimento delle pene per i reati che si commettono in famiglia. Io su quello davvero punterei ancora più l'attenzione. Io vorrei tornare però sul fenomeno della rete. I pedofili attraverso la rete riescono proprio ad entrare nelle mura domestiche dove si trovano spesso i bambini. Abbiamo voluto sentire l'opinione, l'idea di Giulia Massimi, psicologa del MOIGE, ovvero il Movimento Italiano Genitori. Sentiamo. Un dato importante da considerare è la latitanza dei genitori rispetto al fenomeno della pedofilia informatica. Perché? Spesso e volentieri i genitori non controllano e non guidano i propri figli. Pensate che un genitore su cinque non ha mai avvertito il proprio figlio dei pericoli che può incorrere navigando su internet. E non ha mai dato un limite temporale. Perciò i ragazzi stanno davanti al computer senza nessuna regola. Sono computer che non sono provvisti per sei ragazzi su dieci di filtri. Di filtri che proteggono la navigazione dei bambini. Onorevole Mussolini, c'è poca comunicazione in famiglia su questo tema? Guardi, senta, io ho tre figli, adolescenti, uno di nove anni, le prime due, 17 e 14, non le dico, Facebook. Come si fa a controllare un bambino, un ragazzo, 24 ore su 24? Tu lo puoi controllare a casa, esce, va dagli amici, to, 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 sul computer. Quindi è impossibile. Poi quando un adulto dice a un ragazzo i pericoli è che deve capitare proprio a me, tra tutti proprio a me. Tu mamma perché fai questo lavoro e sei presidente della confinzione infanzia e adolescenza è una tragedia. Quindi non riescono a capire il pericolo. Però con la polizia delle comunicazioni abbiamo detto mettiamo in rete un subito, un simbolo per far capire al ragazzo che se vede dei contenuti che non vanno bene clicca, quindi non la polizia, la costruzione. Visto che lei ha parlato della polizia postale noi siamo andati proprio a intervistare il vicequestore aggiunto il piradamato della polizia postale e delle comunicazioni. Le nostre attività si diramano su due fronti. L'uno volto all'esplorazione degli spazi del web anche per stilare la blacklist dei siti pedopornografici e quindi per fare in modo che i provider in Italia oscurino alla visione degli utenti, alla navigazione degli utenti la pedopornografia. Sull'altro fronte invece il monitoraggio, l'esplorazione del web ci consente di rilevare quali sono i nuovi fenomeni di rischio per i minori ma anche i nuovi fenomeni specificamente criminosi. Su questo fronte l'arma della normativa è sempre al nostro fianco. Una normativa che è stata sempre più evoluta che fin dalla fine degli anni 90 è partita col piede giusto fornendoci degli strumenti investigativi di rara eccezione mi riferisco alla possibilità di attivare operatori in sottocopertura e si è poi sviluppata fino alla creazione di questo centro nazionale ma anche sul fronte soprattutto ci ha proiettato sempre di più sul fronte della collaborazione internazionale di polizia. Senatrice Poretti la polizia sta facendo un buon lavoro? La polizia fa un buon lavoro le leggi ci sono eppure il fenomeno è devastante è in aumento è difficile da controllare è difficile da controllare quindi sì certo i figlioli e i ragazzi si controllano e non gli puoi stare addosso col fiato anche perché è impossibile e chiunque di noi che è stato ragazzo sa anche che quello che si sente dire da quello più adulto poi viene anche quindi comunque tutto fa nel senso del dare un'informazione più corretta del cercare di creare quelle basi per cui il sesso deve essere vissuto in un certo modo sono tante le cose davvero che devono essere messe in azione per evitare un fenomeno del genere che poi è violenza quello che da affrontare è la violenza non è tanto lo spaventare dal sesso dall'avere rapporti con gli altri anche ad età più giovani il problema è la violenza una violenza e anche la prostituzione minorile altro tema che si ritrova all'interno della convenzione di Lanzarote e oltre a questo onorevole Mussolini la commissione che lei presiede ha svolto un'indagine proprio sulla prostituzione minorile cosa è emerso è emerso che praticamente la prostituzione è soprattutto un fenomeno che avviene anche il far prostituire in famiglia è proprio di questi giorni la notizia di un parente o un familiare che faceva prostituire la nipote ecco quindi siamo a livello che non c'è più neanche il valore morale l'etica di una famiglia cioè tu per arrivare ad un obiettivo economico orribile fai prostituire il figlio o la nipote siamo a questi livelli quindi purtroppo episodi di violenza di sfruttamento sessuale accadono prevalentemente in famiglia quelli italiani e poi c'è tutto il dato della prostituzione che io io da quando faccio politica abbiamo sempre presentato delle leggi per regolamentare la prostituzione non si può fare cioè la prostituzione deve diventare reato quella di strada e poi consentire come le chiamo io quelle che si sono schiave è un altro paio di maniche ma chi intende farlo quindi le operatrici del sesso chiamiamole così di poterlo fare come lo fanno nelle grandi città europee da noi non si può fare se adesso lei va sulla via più che d'accordo anche perché c'è un'ipocrisia su questo e poi il cliente diceva non sapevo che lei era costretta credevo che lo volesse fare di sua volontà quindi in questa zona grigia chi ci guadagna è soltanto la criminalità e ovviamente la violenza fra l'altro c'è l'ipocrisia dice no ma le tasse non le possono pagare c'è pure una sentenza dalla Cassazione che riconosce il reddito anche perché la prostituzione in strada che riguarda le donne ha spesso fenomeni tragici no? è di pochi giorni fa la notizia caduta a Roma di una giovane non minorenne ma comunque poco più che ventenne prostituta bruciata viva al di là della notizia scioccante ci ha colpito sicuramente molto la dura risposta che ha dato il giornalista del Corriere della Sera Paolo Conti che ha scritto un articolo su questo argomento lo abbiamo voluto intervistare sentiamo cosa dice all'agenzia Novecolonne una ragazza rumena è stata bruciata notti fa alla Borghesiana e questo delitto perché di delitto si tratta non ha suscitato le reazioni che probabilmente i cittadini romani si sarebbero aspettati semplicemente perché questa ragazza è una prostituta ed è un'immigrata è venuto in ospedale il ministro Riccardi per fortuna e ha parlato a nome del governo si è fatto vivo il sindaco Alemanno abbiamo visto alcune reazioni di alcuni segretari di partito tra cui il segretario dell'Udc Cesa o questo sicuramente alcuni esponenti politici locali ma chissà perché io non ho visto reazioni di deputate impegnate sul fronte della difesa dei diritti delle donne non ho visto senatrici non ho sentito alcune reazioni da parte della Casa della Donna qui a Roma che è uno spazio molto vasto perché? perché una prostituta perché un'immigrata è un interrogativo che mi piacerebbe avesse una risposta e allora io rispondo a Conti e perché gli uomini ci vanno? qual è il problema? il problema è il nostro che non ci indigniamo e ci dovremmo indignare tutti o gli uomini che vanno? perché se c'è un'offerta c'è una domanda allora l'indignazione ci deve essere ma ci deve essere anche un'indignazione ancora più diciamo enorme quando si vede che una ragazza viene violentata ripetutamente in tre anni in un paese e il paese dice che la colpa è sua perché era lei che stimolava o faceva avvicinare i cittadini di quel paese per avere dei rapporti cioè noi siamo a questi livelli che la vittima di uno stupro di una violenza sessuale è lei la colpevole già la vittima si sente colpevole quindi purtroppo è così quindi al di là di questo perché succedono? di prostitute me ne sono occupata e da sempre ne ho invitata anche al Senato a fare delle conferenze stampa per chiedere la regolamentazione della prostituzione perché diritti e doveri poi vanno di pari passo quando uno appunto esercita per strada in certe condizioni di clandestinità e di criminalità è questo uno dei rischi a cui si può andare incontro la regolarizzazione prevede altro prevede appunto anche una tutela delle donne quindi sinceramente me ne sono occupata in altro modo per quanto mi spetta e mi compete o per quanto io solitamente mi comporto senza fare i comunicati sugli omicidi ecco ma perché nonostante provvedimenti e pene la situazione sembra essere peggiorata ma la situazione è peggiorata anche nelle grandi città hanno tentato di fare gli esperimenti con le telecamere non so quanti soldi hanno speso che è uno spreco non gli importa proprio niente non le fermano perché non è che devono poi fermare loro poi c'è tutto l'organizzazione criminale intorno quindi ci vuole occorre una legge ma non c'è perché io lo so perché però non lo dico non c'è abbastanza coraggio? qualcuno ce l'ho dita c'è un'ipocrisia c'è un'ipocrisia di fondo c'è un Vaticano che in Italia impedisce ovviamente di fare certe legge c'è anche un femminismo e guarda lo dico proprio brutalmente di donne che dicono ma no il corpo delle donne non si può prevedere che questo possa essere tassata che possa essere riconosciuta come un mestiere come un lavoro quindi al di là di tutto c'è un insieme un sovaccarico quindi da una parte siamo contrari perché qualcuno può dire ma io sono per la prostituzione siamo tutti contro però bisogna c'è se noi andiamo a aprire un giornale i quotidiani anche nazionali vai a vedere tutte le case delle massagge ma mica solo questo e quante ragazze si pagano gli studi italiane ragazze di buone famiglie è purtroppo così che si spogliano su internet sulla videocamera non c'è più neanche il valore non c'è più niente non c'è più niente d'altronde insomma lo sfruttamento sessuale è sicuramente l'aspetto più degradante di una cultura generale che non tutela né le donne né i minori un altro aspetto è sicuramente quello dei diritti civili tornando ai minori senatrice Poretti lei si è occupata dei 30.000 ragazzi ospiti di case famiglia o assegnati ad affidatari però ha sollevato un problema sul loro futuro sì abbiamo cercato anche di occuparsene con uno degli ultimi provvedimenti economici e riproveremo in senato e se partisse dalla camera è uguale non c'è gelosia credo su questi provvedimenti però noi abbiamo una situazione paradossale per cui noi stato italiano investiamo e spendiamo dei soldi pubblici su dei bambini che sono momentaneamente senza famiglia e si parla di cifre intorno ai 20.000 ci investiamo addirittura facendo dei calcoli un 250.000 euro e poi quando compiono 18 anni di età gli diciamo bene grazie sei maggiorenne e te ne puoi andare andare dove a finire dove cioè se sono dei ragazzi che hanno avuto dei problemi tali da non avere una famiglia da non avere una sistemazione degli affetti una situazione tale che gli permette di avere un futuro abbandonarli al 18esimo anno di età è una follia è un insensato è un insensato noi non controlliamo non mettiamo dei controlli su questi soldi su come vengono spesi su come le case famiglie si organizzano che servizi danno non c'è un monitoraggio pubblico ben fatto su questa situazione e poi li lasciamo addirittura andare avevamo proposto di creare poi si parla di piccoli numeri in realtà perché 20.000 non è che è un problema enorme però è un problema che può diventare grande dei metodi per accompagnare dei metodi di accompagnamento ci sono le categorie più deboli perché queste non considerano delle categorie più deboli per avviarli per dargli dei percorsi di formazione di inserimento nel mondo del lavoro ma comunque di seguirli e di non lasciarli sulla strada che poi torna indietro come un problema della società chiarissimo se parliamo di diritti non possiamo non parlare parlando di minore di bambini stranieri nati in Italia voi pensate onorevole Mussolini le pensa che sia giusto dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia? ma io credo che la cittadinanza debba essere voluta non possa essere un diritto acquisito e tu devi lasciare libero anche una persona di dire io voglio mantenere la mia cittadinanza e non intendo avere la cittadinanza italiana tante situazioni sono su questo tipo noi abbiamo parlato anche di questo in commissione un bambino lei diceva quando vanno nelle case famiglie nelle case famiglie ogni bambino costa dagli 80 ai 100 euro al giorno sono 3000 euro solo per un bambino al mese quindi immaginatevi io uso la parola che business c'è intorno a questo un miliardo un miliardo l'anno di business allora un bambino per esserci controlli i bambini non sono per la mia cittadinanza automatico io non sono per la cittadinanza ma non c'entra nulla con la cittadinanza la cittadinanza si la si può anche scegliere ovviamente a 18 anni al momento i ragazzi che frequentano le scuole di mia figlia e dei tuoi figli non hanno questa scelta sentiamo anche l'opinione degli studenti di Roma con il nostro solito sguardo al futuro sentiamo cosa ci dicono i figli di immigrati nati in Italia devono essere considerati cittadini italiani? secondo me sì se entrano a far parte di questo meccanismo con diritti e doveri sì secondo me sì perché comunque sono cresciuti qui vivono qui quindi dovrebbero avere le stesse nostre opportunità i nostri diritti è una domanda complicata un problema importante perché può essere che la gente venga in Italia solo per fare i figli e quindi avere questo modo il permesso di soggiorno credo che in ogni caso una famiglia accolta nel nostro paese debba assolutamente avere gli stessi diritti delle famiglie italiane insomma dobbiamo forse adeguare il Parlamento al futuro noi intanto entriamo in commissione esteri ma torniamo tra poco sempre con le nostre ospiti e ne sentiremo delle belle a tra poco commissione affari esteri la commissione affari esteri si occupa in generale di politica estera la maggior parte dei disegni di legge ad essa assegnati è costituita da ratifiche di accordi o trattati stipulati dal governo italiano con altri governi o di adesione dell'Italia a convenzioni internazionali la commissione è competente anche per la disciplina e il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ogni sei mesi inoltre la commissione affari esteri in seduta congiunta con la commissione difesa discute i decreti semestrali di rifinanziamento della partecipazione italiana alle missioni di pace internazionali un altro tema di competenza della commissione è quello dell'emigrazione e dei rapporti tra l'Italia e le comunità italiane nel mondo in sede consultiva oltre ai disegni di legge che hanno riflessi sulla politica estera la commissione esprime pareri su tutti gli atti dell'unione europea che riguardano l'aspetto istituzionale europeo quali revisione dei trattati e i rapporti con gli stati terzi compresi accordi bi o multilaterali stipulati dall'unione europea e rapporti politici tra gli stati membri Bentornati a Madama Palazzo sullo schermo scorrono gli appuntamenti parlamentari della prossima settimana e vorrei parlare un po' con le nostre ospiti con l'onorevole Mussolini lei è battagliera ma in casa è così? Una tragedia in casa io sono peggio no è che mio marito è un generale ma io no io sono per il dialogo e ascolto e medico io ho due figlie una di 17 una di 14 il romano il piccolino di 9 cioè è una cosa bisogna veramente fare una mediazione uno con un carattere uno con un altro no io mi vedete così cioè un po' bestiale poi invece a casa sono normale sono normale veramente come tutte le madri devo subire come tutte le donne quanto subiamo anche lei ha una figlia femmina piccolina Alice e quali sono? ma già tremenda sì già tremenda già tremenda quali sono le sue ansie maggiore? 40 giorni no ancora devo dire che bambini piccoli problemi piccoli o mai ho un vecchio detto che è a stagio 6 anni e mezzo va bene fa la seconda elementare già siamo alle prese con i compiti con tu e quindi studiano studiano comunque bambini piccoli effettivamente ancora grandi problemi non ne danno però si intravedono si intravedono potreste consigliare il carattere le donne e l'altra mamma mia tremenda è onorevole Mussolini visto che lei ha parlato di due figli adolescenti a consigliere dunque la cosa è questa le ragazze ormai adolescenti sono molto più problematiche degli uomini gli uomini poi sono più basici hanno meno diciamo meno meno organi no? e allora noi ci perdiamo dopo io lo dico sempre nasciamo meglio poi con gli anni noi troppe cose in testa questo quest'altro quello quello non fanno niente gli uomini pochi il lavoro torna a casa hai fatto hai cucinato hai fatto e c'è una frase senatrice che ripete più spesso a sua figlia Alice hai fatto quella Alice i suoi tempi sono diversi probabilmente i bambini hanno tempi dilatati sicuramente anzi non hanno tempi forse e la sua frase è più ricorrente con le sue figlie femmine e la mia frase è più ricorrente e su adesso andate a letta mamma dai spegni il suo computer andiamo a letta non se ne copie vanno le ore piccole tempito di vedere leggere ecco come diceva la psicologa lì del moj il concursista chi capisce niente comunque sei anni e mezzo e sta a usare l'iPad meglio di me preso l'iPad lei lo sta a usare io sono ancora lì che su qualcosa sono della vecchia generazione dei primi computer si chiamano abbiamo fatto anche un'edizione su questi i nativi digitali sono nati loro sono già non come noi molto più pratici di noi di questi no no io voi lei ovviamente ha già due figlie che sono quasi donne praticamente le donne le donne in politica però sono ancora poche meglio poche ma buone o bisognerebbe un po' veramente quelle poche dovrebbero anche essere buone quando sono poche sono pure cattive lì c'è la tragedia e quindi su che cosa vuole puntare sulla qualità anche sulla quantità perché no meno uomini io vorrei fare una quota di uomini e poi il resto donne mettiamo una quota per gli uomini tanto diciamo potrebbe essere un'idea che ne dice sì anche perché questo dibattito sulla qualità la quantità chissà perché è solo per le donne cioè su questa cosa se la qualità è negli uomini non c'è o non c'è non ce lo poniamo mai no è come il problema è perché continuiamo a avere le pari opportunità affidate a una donna e per fortuna ora è affidato a un dicastello che almeno si occupa di lavoro però non si occupa proprio però in realtà ci sono questi dibatti di parlamentari sulle donne fatti da donne c'è una stanchezza che ci continuiamo a ripetere ma è purtroppo che è testimoniata dai numeri i numeri sono quelli i numeri sono bassi ancora continuano a essere bassi insomma speriamo che aumentino che aumenti la qualità anche come dice l'onorevole Mussolini la qualità e la meritocrazia io intanto vi ringrazio per essere state con noi vi consegno il passaporto di madama palazzo affinché ci siano sempre nemmeno confini per le politiche fatte dalle donne speriamo possiamo farvi complimenti allora per essere state promosse sulla sette ottima trasmissione grazie però ci avete approvato qua siamo promosse promosse vi mettiamo il timbro io vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana con madama palazzo e continuate a scriverci al nostro indirizzo mail arrivederci